Benvenuti negli abissi dei Sea Friends! Qui la medusa non sta mai ferma, il calamaro è dolcissimo e il pesce pagliaccio è sempre in giro! Ma attenti all'orco o allo squalo! A casa tua questi brillano al buio e altri cambiano colore in acqua! Gioca con la tartaruga e trova il polpo! In edicola, online e nei negozi di giocattoli!